Buon appuntamento con SOS Rezzo TV, buonasera Peppe Marconi. Ciao Fabio, dai muoviti che freddo. Guardi che fa freddo un'altra volta. Allora, vieni a pizzicare. Pizzica perché allora sono le 6 di sera, io saluto il consigliere Angelo Rossi. Ciao. Allora, siamo qui in una panchina ma non come pensionati, cioè te potresti anche essere. Ma non ci sto. Senti, siamo qui perché c'è stato questo consiglio comunale che ha fatto un po' parlare di sé, e non tanto per i temi, quanto perché in quella che era la proposta dei consiglieri, di Oga Ghinelli, di Meri Cornacchini che salutiamo, e Angelo Rossi, su questa proposta di riqualificare alcune aree degradate, chiamando in causa quelli che sono gli artisti, i murales, i cosiddetti writers, per renderli partecipi, creare anche una forma di arte. Però che è successo in consiglio? Perché questo atto è stato discusso poi, no? No, è stato discusso perché è mancato il numero legale. Sono cose che, tra virgolette, per gli addetti lavori succedono. Ora, può sembrare una cosa un po' particolare, ma in realtà non è così, perché quello che è successo, ti dico che è la norma, però quando gli ordini del giorno sono molto lunghi, come era in questo caso qui, perché era quasi in coda, praticamente, si arriva verso l'ora di pranzo, succede. Ecco, però qualcuno ha detto che era una cosa politica per, come dire, non smentire la famosa intervista di Lucia Tanti, perché sono stati quelli di Forza Italia, in particolare così, che non c'erano, il PD. No, in realtà era a macchia di leopardo la faccenda. Poi di base non eravamo tantissimi già di noi, perché su 21 eravamo 18 già di base, la maggioranza è 17, quindi basta che un paio ti vadano a mangiare o cosa, capito? Però, insomma, era un po' una cosa macchia di leopardo. Sì, semmai c'è da stigmatizzare l'atteggiamento che ha tenuto l'opposizione, tra virgolette, cioè il PD e il Movimento 5 Stelle, il Romizzi stesso, che fa gruppo a sé, che hanno dichiarato in tutte le salse, in tutti i media, che avrebbero appoggiato questo atto di indirizzo, poi quando è stato il dunque, cioè che praticamente ci mancava un paio di click, mettiamoli così, di presenza per garantire questo numero legale, che eravamo in 15, 15, quindi ce ne bastava due, hanno preso la decisione di non partecipare alla Costituzione nel numero legale, e quindi di fatto staremmo a raccontare un'altra storia, oggi nel senso staremmo a parlare di questo atto, passato o non passato, questo non ti saprei dire, però comunque discusso, cosa che non è avvenuta, per responsabilità un po' di tutti, però voglio dire, sono cose che succedono, poi non è che finisce oggi, va dire direttamente al prossimo consiglio, quindi il 9 di febbraio andrà in discussione. Il Forza Italia che fa, non si sa. Io forse non sono di Forza Italia. Tu che dici? Io dico che lui è troppo giovane, ancora non si rende conto come funziona la politica, la maggioranza deve tenere il numero legale, la maggioranza non te lo otterrà mai il numero legale, purtroppo funziona, dico purtroppo, perché io sono stato un consiglio comunale, e una volta mi sono provato a tenere il numero legale, nonostante i miei fossero riusciti tutti, ha alzato tutti la scheda, io votai la pratica insieme ad un altro consigliere comunale, di cui non faccio il nome, Chiariconi, tenemmo giù la scheda, votammo contro l'ordine del giorno, però facciamo passare la pratica, perché la maggioranza è stata compatta a favore, noi due contro e la pratica passò. Fummo vituperati, perché si sa quanto tempo, per aver fatto una cosa del genere, per aver mantenuto il numero legale, e qualcuno disse che avevamo messo i ditti nella marmellata, se ti va in ufficio ancora che aveva una marmellata di chiusa, capito? Però funziona così. Lo so che funziona così. Purtroppo funziona così. Allora, il purtroppo l'hai detto te, giustamente, perché? Perché, in realtà non dovrebbe essere così, perché quando c'è un tema che tu appoggi, che c'è, diciamo così, il bene della città innanzitutto, cioè superi il discorso della logica degli schieramenti, almeno per me è così. No, è un problema condizionale, dovresti superare. Questa logica degli schieramenti, ovviamente, poi c'è chi non lo fa. Io l'avrei fatto, per dire, io l'avrei fatto come il Chiericoni e lei, senza nessun problema. Ma avrebbero vituperato. Ma avrebbero vituperato, però evidentemente, secondo me, quando ci si fa eleggere, ci sa un mandato popolare, ci sa che è una responsabilità, che va al di là della logica dello schieramento. Cioè, se c'è una cosa positiva da fare, si fa, indipendentemente da chi la propone. Io la vedo così, lo so che è sconveniente, però... L'ho sempre vista così anch'io, ma poi molte volte è inattuale. Allora, facciamo il Consiglio Comunale e te. Io sarei da un uomo di sinistra, di centro-sinistra, invece farei in modo diverso. Dare al Consiglio Comunale solo il potere di controllo e vigilanza e basta. Perché tanto l'ho guadagnato uguale? No, perché tanto serve solo e scusamente come vetrina per certi consiglieri per fare. In questo caso non è, però molte volte è inutile per mettersi così in mostra. E le cose importanti della città, i problemi importanti della città, poi vengono discusi sempre in giunta e quando arriva un Consiglio Comunale o alzi la mano o altrimenti, se no, sei considerato immediatamente uno che volta a cabana e quindi di conseguenza sei costretto a votare cose per le quali anche non ci credi. In questo caso lui ha ragione, ma purtroppo la politica non funziona così. La politica oggi funziona completamente in un modo diverso. Oggi si va su non per gli interessi generali, ma solo per gli interessi particolari, di partito e di persona. Questo sono tanti anni che lo dico, anche quando ero in Consiglio Comunale. La politica non è più politica, non fa più l'interesse generale della comunità, ma fa soltanto l'interesse parziale. Abbiamo letto su Facebook un po' la delusione di Mary Cornacchini che ha lasciato, non so, qual commento come era interpretabile. La Mary è una ragazza, è una signora, però insomma è una ragazza d'oro, chi la conosce bene ha un cuore grandissimo. Cioè te ci parli capisci di avere davanti una persona che ci tiene e quindi lei è una passionaria. Io ho cercato di spiegarle che ci si va la prossima volta, non è che c'erano tanti problemi, però lei è passionaria, reagisce in una maniera distinta. Però insomma ognuno ha il suo carattere, voglio dire, non c'è niente di che. Deve reagire non in Consiglio Comunale, deve reagire nelle segrete stanze. Nelle segrete stanze deve reagire in modo da dare veramente un messaggio, non pubblicamente o magari facendo altre cose, magari più o meno creatanti in Consiglio Comunale. Deve reagire nelle segrete stanze, non lì. C'è un po' di conia sul web per i temi di alcuni atti di indirizzo, tipo quello anche del sesso sicuro che tu hai firmato. Sì, sì. Tu fai il sesso sicuro intanto? Mai. Mai fatto, quindi lui è stato l'indirizzo diciamo. È stato interessante perché c'è un po' questa dicotomia nella Lega, no? Hanno fatto due atti di indirizzo, che sono uno il diavolo e l'altro l'acqua santa. La famiglia Natu, quella della istituzione della Lega. Quelli della Lega sono assolutamente spettacolari. Perché hanno fatto questo atto da un lato per il sesso sicuro, nel quale praticamente si dice noi consiglieri andiamo a distribuire gratuitamente preservativi, io lo trovo giustissimo, infatti l'ho firmata, come prevenzione sanitaria assolutamente, quindi c'è una logica assolutamente anche progressista, un atto progressista e l'altro sulla istituzione della famiglia naturale. Della famiglia naturale. E se adesso questo atto di indirizzo passa con i numeri dell'opposizione e non di Forza Italia? Che succede? È passato, punto e basta. Non è che succede che nei giornali e nelle televisioni la minoranza sbandierà il fatto che c'è una divisione della maggioranza e quindi di conseguenza non c'è più la maggioranza in questa città perché tutte le cose devono essere approvate. Sto rispondendo che bene che ci sia una discussione, che non si può essere d'accordo su tutto al 100%, che non c'è niente di male se su un tema o due o anche tre o quello che è ci possa essere anche un dibattito interno. Spero che tutti abbiano le tue idee e che vengano portate avanti le tue idee. Però ne parleremo fra tre anni. Quando finirà la consigliatura mi dirai l'esperienza come è andata, come è andata, come è rimasto, come non è rimasto. Perché penso che magari avrai qualche... Non mi hai detto che rimango fino a fondo, voglio dire. Per scontato che io faccia tutti i tre anni. A proposito, perché non lo sanno, ci hanno ulteriormente deglassato il gettone che attualmente noi si prende 31,50 euro l'ordi al mese. Questo significa che se io devo andare... Si rischia tanto, diciamo. Sì, 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 150 euro di assicurazione all'anno. Quindi quello che ha detto il nostro amico è verissimo. Siamo veramente l'ultima ruota del carroco, questo lo dovete capire. Grazie Angelo, a domani.